Prima ma c'è stato un presagio di morte, poi un bacio con un primo incontro e adesso un orgasmo mistico, cioè mi stai dicendo che la nostra relazione tra virgolette sarà un presagio di morte, ma arriveremo comunque a baciarci e a farti provare un orgasmo mistico? Sto interpretando bene? No, io volevo soltanto che tu notassi quanto l'arte riesca a celare bene certe cose, se tu non osservi l'opera con attenzione. Scusa, ho sovrainterpretato.